Bene ragazzi, mettetevi tutti in cerchio intorno a me per favore. So che di solito sono uno che fa notare gli errori altrui, ma ho un figlio adesso e mi rendo conto che è importante riconoscere quando qualcuno fa un buon lavoro. Il signor Blake, lì nel letto numero 3, è venuto qui con quello che sembrava un semplice blocco cardiaco, ma qualcuno ha scoperto che era stato in campeggio e l'ha diagnosticata correttamente come malattia di Lyme complicata da miocardite. Sicuramente alcuni di voi penseranno che è una cosa stupida, ma vorrei che quel qualcuno si facesse avanti e alzasse la mano così che tutti possano dare il giusto riconoscimento al suo lavoro. Questo non è il momento di essere modesti, andiamo. Oh mio Dio, sono stato io, è così, sono un genio, sono un cervello enorme in un corpo piegato, sono il dottor Jesus Cox, per voi. Tuttavia, probabilmente non ce l'avrei fatta da solo, quindi è giusto dare un riconoscimento agli altri protagonisti, a cominciare dallo specializzando che ha fatto la diagnosi sbagliata. Sono io. Abbassa la mano. E poi c'è anche l'assistente che ha confermato questa diagnosi sbagliata. La sera prima c'era la maratona di quattro donne in carriera. E ultimo, ma non meno importante, c'è il chirurgo che voleva aprire in due il petto del signor Blake come una noce e ficcarci un pacemaker perfettamente inutile. Ora è troppo modesto per farsi avanti, quindi dovrò fare io le presentazioni. È nero, è pelato e non può mangiare le brioche perché ha il diabete, signore e signori Christurk. Perché non se ne va, così ci rimettiamo al lavoro? Non finché tutti non scandiranno il mio nome, così che possa avviarmi all'uscita con le mani sopra la testa in un gesto di trionfo. È molto semplice. Questa meravigliosa macchina sforna di agnosi ha bisogno di adulazione per funzionare e voglio sentirla in questo momento. Cox, 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 P, I, P, O, ecco qui!